A Premolo partiranno nelle prossime settimane i lavori per ristrutturare la casa natale di Don Antonio Seghezzi, dopo un accordo tra comune e il gruppo dedicato a sacerdote. Al via la festa della comunità Pradalunga e Cornale, spazio ai giovani, con tante iniziative anche ai cittadini gemellati della città bavaresi di Untermergau. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Partiamo dalla cronaca, incidente poco fa ad Albino intorno alle 17.30. Per cause da accertare si sono scontrate un'automobile e una motocicletta in via Isla, strada perpendicolare alla principale via provinciale. Nello scontro, ad avere la peggio, è stato un uomo di 73 anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo dai volontari della Croce Rossa di Alzano Lombardo. Passiamo in Val Camonica alle 4.40 della scorsa notte. Una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata inviata nel comune di Piancamuno, in località Solato, in via San Pietro, per spegnere un incendio in un escavatore meccanico. Fortunatamente non si sono registrati i feriti e le cause del rogo sono ancora in accertamento. Sul posto erano presenti i carabinieri di Artogna per i rilievi. Voltiamo pagina e state con numeri importanti anche sulla pista ciclopedonale della Val Seriana, mentre proseguono i lavori per la sua manutenzione. Oltre al ponte che sarà sostituito tra Cene e Fiorano, nel 2024 la comunità montana punta alla realizzazione del collegamento tra Clusone e Castione. Sentiamo. Siamo davvero contenti che i cittadini, non solo bergamaschi ma anche da fuori Bergamo, stiano apprezzando il valore della nostra pista ciclopedonale che sta diventando sempre di più un fiore all'occhiello per tutta la Valle Seriana. Per questo motivo abbiamo fatto due grandi interventi. Il primo, che comincerà a giorni che riguarda la sostituzione dell'ultimo ponte in località Asenina, si tratta di un ponte di circa 50 metri lineari con un investimento di quasi 400 mila euro e sistemeremo anche una parte della pista ciclopedonale vicina a questo ponte. La seconda cosa importante, ormai la pista ciclopedonale da Gromo a Val Bondione è completamente fruibile e quindi l'abbiamo aperta in questi giorni insieme con i sindaci dei comuni di Gromo, Gandellino e Val Bondione e quindi abbiamo offerto ai nostri concittadini anche questa ulteriore possibilità. Restano sogni da realizzare ancora perché il percorso è lungo e c'è il tratto che poi da Clusone porta verso Castione. Il 2024 è previsto nel piano delle opere pubbliche l'opera pubblica più importante e più significativa. C'è il collegamento da Clusone a Castione sapendo che una parte è già stato realizzato, deve essere solo fatta una manutenzione straordinaria e un'altra parte invece deve essere realizzata per arrivare a Castione. In questi giorni abbiamo incaricato il tecnico per avere un'ipotesi abbastanza realistica dei costi, dopodiché nel bilancio di previsione che faremo a fine anno per il 2024 vedremo di finanziare questa opera. Con questa opera davvero diventa una pista ciclopedonale importantissima, forse una delle più lunghe addirittura in Lombardia perché si partirà da Villa di Serio per dire e si arriverà fino a Castione della Presolare. Mi sembra un impegno davvero significativo. Più difficile invece la parte di completamento verso Val Bondione nel tratto dopo Villa D'Ogna? Sì, lì abbiamo un'ipotesi, uno studio di fattibilità perché non è ancora progetto, però un studio di fattibilità importante dal punto di vista economico, nel senso che per collegare la pista ciclabile per arrivare, per intendersi, ad Ardesio-Gromo bisogna pensare ad una pista ciclopedonale a mezza costa con impegno sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dell'inserimento ecologico, naturalistico in questa zona che è particolare. Non mettiamo limiti alla provvidenza, vediamo nei prossimi anni la comunità montana come si è impegnata in questi anni, si impegnerà anche per questo. E realizzata questo ultimo tratto, va beh, insomma, siamo al top. Piccoli interventi, pensiamo all'inverno, a Val Bondione, una panchina speciale. Sì, nella realizzazione del tratto di Gromo-Val Bondione abbiamo avuto un risparmio economico che è ancora disponibile e quindi stiamo vedendo di completare alcuni piccoli interventi con una particolarità. Abbiamo fatto una sperimentazione di alcune panchine che si possono togliere durante il periodo invernale per mantenerle e per salvaguardarle. Il comune di Val Bondione è stato d'accordo con noi, abbiamo acquistato queste tre panchine che abbiamo già messo e quest'anno faremo la sperimentazione a novembre di toglierle per poi rimetterle nella primavera. Se questo funziona, come mi auguro, potremo fare ulteriori panchine oltre ad altre cose lungo la pista ciclopedonale. È una cosa interessante e anche un po' curiosa. Passiamo ora a Gorno, dove è stata venduta una delle principali case dell'ex villaggio minerario di Campello. Sentiamo il primo cittadino, Giampiero Calegari. In questi giorni c'è stato un passaggio importante che riguarda l'ex villaggio minerario di Campello, soprattutto uno degli immobili più importanti. Sicuramente un immobile importante, ma comunque che presentava delle problematiche, nel senso che il tetto stava già cadendo e era ammalorato e per cui il rischio era di dover poi demolire anche questo immobile. Noi abbiamo fatto un'asta, abbiamo la prima volta andato a deserta, la seconda volta con un piccolo sconto rispetto al valore che era di circa 43 mila Euro, con il 10% in meno una persona di Gorno si è, diciamo, ha presentato l'offerta e di fatto ritirerà questo immobile e lo sistemerà, lo metterà a posto. È un passaggio secondo me molto importante perché se noi fossimo riusciti anche a suo tempo a riuscire a salvare tutti questi immobili che c'erano a Campello, sicuramente il villaggio si presenterebbe oggi, sicuramente non nelle condizioni così faticenti in cui lo possiamo vedere oggi, ma poteva essere un villaggio che ritrovava ancora quelle che erano le origini di questo villaggio che era veramente un qualcosa di interessante, un qualcosa di unico del territorio. Purtroppo non siamo mai riusciti a entrare in possesso degli immobili, quando siamo entrati in possesso diciamo che gli immobili erano quasi tutti ammalorati, stavano cadendo e per cui abbiamo dovuto anche demolirli per questioni di sicurezza, perché voglio ricordare che il primo immobile è caduto e i detriti si sono riversati sulla strada, grazie a Dio in quel momento non passava nessuno e per cui non abbiamo avuto dei problemi, però c'è stato un cedimento e un altro immobile che stava per cadere. Per cui veramente siamo felici che qualcuno si sia preso, si sia fatto carico di sistemare come era una volta questo immobile, un immobile, una delle ville che era la villa del direttore, uno degli immobili più belli che esistevano nella località Campello. Ci spostiamo ora a Premolo dove partiranno nelle prossime settimane i lavori per ristrutturare la casa natale di Don Antonio Segezzi, il sacerdote originario del paese morto nel campo di concentramento di Dachau, dichiarato venerabile dalla Chiesa Cattolica. Intanto c'è stato anche un importante accordo tra comune e gruppo, Don Antonio Segezzi, il servizio di Nicola Anderoletti. A Premolo nascerà una casa museo dedicata a Don Antonio Segezzi, proprio in quella che è stata la sua casa natale, la casa di famiglia. Un'operazione ampia che coinvolge anche altri immobili del paese. Sì, infatti come premessa, nei giorni scorsi abbiamo provveduto come amministrazione comunale ad acquisire il magazzino del gruppo Don Antonio Segezzi per circa 37.000 euro, quindi un magazzino che ovviamente viene utile, uno spazio in più per il comune di Premolo, appunto come deposito, non solo per il comune ma sicuramente verrà utile anche per tutte le associazioni del paese che avessero bisogno di un luogo dove sistemare le loro cose. Quindi abbiamo provveduto ad acquisire questo magazzino e oltre al magazzino abbiamo anche acquisito con questi 37.000 euro tutto il materiale su pellettili che il gruppo Don Antonio Segezzi utilizzava per la realizzazione del presepio vivente che purtroppo per tanti motivi non si è più realizzato, ma anche questo si spera che sia un auspicio affinché in futuro possa essere ancora realizzata questa bellissima manifestazione che è stata di esempio anche per tanti presepio viventi del nostro territorio che ancora si realizzano. Quindi ecco, questi su pellettili, questo materiale, uno non vanno dispersi quindi restano in paese e in particolare alcune di questi mobili, di questi su pellettili sono state anche di proprietà della famiglia di Don Antonio Segezzi. Quindi come si diceva andremo a sistemare e restaurare e valorizzare la casa natale di Don Antonio Segezzi che era già di proprietà comunale e grazie a un bando regionale, al finanziamento che abbiamo preso a fondo per tutto andremo a coprire praticamente la quasi totalità dell'intervento di Camonta circa 155 mila euro. La parte restante, fra l'altro, e ci hanno tenuto a partecipare in maniera particolare, visto lo scopo dell'associazione verrà finanziato grazie a una donazione da parte appunto del gruppo Don Antonio Segezzi per circa 20 mila euro. Quindi un'opera importante per il nostro territorio per andare a sistemare una parte del paese grazie appunto a questo bando regionale e in particolare a valorizzare la casa dove hanno vissuto per un po' di anni anche la famiglia e i parenti di Don Antonio Segezzi e verrà valorizzata appunto anche con questi mobili appartenuti alla famiglia. Un traguardo importante appunto come dicevo sia per la valorizzazione e sistemazione del paese e appunto per la valorizzazione di questa importantissima figura di Don Antonio Segezzi importantissima oltre che per la nostra comunità ovviamente ma per tutta la diocesi e non solo per l'esempio che ha dato e in particolare per i giovani, una figura sempre molto attuale. Quindi un bel risultato e un grazie anche al gruppo Don Antonio Segezzi per questa diciamo così con partecipazione importante che hanno dato e come dicevo l'acquisizione del magazzino comunque sarà sempre anche questo beneficio di tutta la comunità, di tutte le associazioni oltre che del comune di Premolo. Quando partiranno i lavori? Allora i lavori devono essere appaltati nei prossimi giorni quindi verosimilmente per la fine di settembre dovrebbero, fine di settembre, inizio d'ottobre dovrebbero avere inizio quindi immaginiamo che per la fine inizio, fine anno, inizio anno prossimo i lavori siano anche terminati. Inizia domani e durerà fino al 10 settembre la festa della comunità a Prada Lunga e Cornale. Spazio ai giovani con tante iniziative e anche ai cittadini della città bavarese di Unteramergau gemellati con quali seriani. Festa della comunità a Prada Lunga ormai è tutto pronto, tanti avvenimenti dedicati a tutte le tante ai ragazzi soprattutto. Partiamo dal gemellaggio con i bavaresi che si ripete. Sì quest'anno a Prada Lunga e Cornale abbiamo proposto la festa di comunità includendo anche il gemellaggio che appunto vengono i nostri amici gemellati bavaresi di Unteramergau e verranno accolti e partire da un po' quelli più senior i primi tre giorni per poi averli anche sul territorio su delle tendate che facciamo sia in Pratolina che a un parco del paese che appunto poi verranno a includersi con i nostri giovani prada lunghesi. Nel senso la festa di comunità quest'anno cerca di abbracciare un target molto più ampio partendo dai 3-4 anni delle scuole della materna fino ad arrivare ai 99 con i giochi scatola oppure un karaoke il sabato sera di settimana prossima. Qualche iniziativa in particolare importante per loro? Per i giovani abbiamo un torneo di pallavolo il sabato all'oratorio di Prada Lunga sabato 2 poi abbiamo un balo di fine estate delle scuole per le scuole medie la domenica 3 e poi si passa al cinema all'aperto al parco che è un cinema sotto le stelle per bambini dai tre anni in su che sarà appunto sotto le stelle. Per poi passare giovedì 7 settembre che ci saranno due eventi in particolare l'Escape City che è un escape room allargata a tutto il paese e poi sempre la stessa sera un po' per tutte le età a partire dalle scuole medie in su una presentazione del progetto Grafite che è un percorso, un progetto che prosegue sul territorio di Prada Lunga da oramai un paio d'anni che appunto accoglie cittadinanza attiva e scintille che vogliono sperimentarsi dai ragazzi che poi andranno a uscire sul territorio con delle micro progettualità. Infine si conclude con i più piccoli alla scuola materna con i burattini il venerdì 8 settembre per poi chiudere nel weekend del 9 e il 10 settembre con un sabato pomeriggio in oratorio con giochi scatola per tutte le età e la domenica una camminata per tutto il paese organizzata dall'Avis comunale e poi al pomeriggio Baskin quindi un progetto di integrazione per far provare ai bambini e ragazzi a giocare a basket sulla sedia a rotelle. E quindi durante la festa di comunità parteciperanno un sacco di associazioni che si sono lasciate coinvolgere, hanno proposto loro attività, in particolare siamo non so il gruppo Liberamente, il gruppo Alpini di Prada Lunga e Cornale, poi c'è il gruppo bandistico di Prada Lunga, i due oratori che si sono appunto messi in gioco per poi passare alla Prada Lunga questa nuova associazione culturale e la scuola materna, l'Avis, il gruppo dei commercianti a Teco e per poi concludere con la Polisportiva e l'Avis che sono sempre attivi sul territorio. Da ricordare sicuramente la prenotazione per i prossimi due eventi non di questo weekend del prossimo 9 e 10 settembre che è la cena in oratorio di Prada Lunga il 9 e la camminata di Avis il 10 di settembre. La comunità di Gandino celebra fino a domenica 3 settembre la festa di San Francesco da Paola venerato nella chiesa di San Giuseppe di cui quest'anno si ricordano i 500 anni dell'edificazione. Un anno speciale questo 2023 per la Basilica, anche per la chiesa di San Giuseppe, una ricorrenza speciale per un santo che viene venerato in questi giorni. Esattamente, quest'anno sono 500 anni dalla conclusione dell'edificazione e dalla dedicazione di questa chiesa, 5 secoli pieni di storia come abbiamo già potuto ricordare e festeggiare in occasione della solennità di San Giuseppe lo scorso marzo. Quest'anno diciamo che il settenario di San Francesco da Paola, che è l'altra grande festa che vogliamo ricordare in questa chiesa, ricade in questo quinto centenario con un'attenzione particolare sulla santità che ognuno di noi è chiamato a vivere nella vita quotidiana. Il predicatore è Don Ernesto Vavassori, professore di filosofia e storia all'Istituto, al Liceo Sant'Alessandro in Bergamo. Ci sta accompagnando in questa meditazione sulle virtù cardinali e le virtù teologali. Perché festeggiamo San Francesco da Paola, che è un santo calabrese, qui a Gandino, ma in realtà scorgiamo tantissimi segni di una devozione verso di lui in tutta la diocesi? Perché i suoi frati nei secoli riuscirono a costruire un vecchio, un antico convento, quello è il convento del Galgario, dove adesso c'è il famoso dormitorio gestito dalla Caritas diocesana e la presenza di questi frati minimi fece sì che la devozione di questo santo si diffuse un po' in tutto il territorio. San Francesco, in sintesi, nasce per intercessione di Francesco d'Assisi, ecco perché ne porta il nome ed è un santo che ha voluto un po' radicalizzare la storia e l'insegnamento di Francesco d'Assisi. Quindi una vita austera, una vita quaresimale tutto l'anno, un santo che prima era divenuto eremita, ma poi il suo stile di vita, la sua proposta di vita, fece sì che tanti giovani volerano seguire le sue orme. Quindi, creando l'ordine dei minimi che tuttora esiste, divenne famoso anche e soprattutto per i suoi miracoli di conversione e miracoli taumaturgici, cioè di guarigione fisica dalle malattie. Questo settenario, che è già appunto in corso, vede nella giornata appunto di giovedì, la giornata sacramentale, quindi l'adorazione eucaristica, le sante confessioni, ma si concentrerà soprattutto nelle giornate di venerdì e domenica con le due processioni. La prima dalla chiesa di San Giuseppe verso la basilica di Gandino, la parrocchiale, e la domenica come processione conclusiva alla presenza di alcune confraternite del civico corpo musicale di Gandino e della corale di Gandino. Non mancano, se vogliamo così ormai da qualche anno l'abbiamo introdotto, anche piccoli momenti di ritrovo, come il sabato sera del settenario, con un momento conviviale aperto ai volontari, ai confratelli e a chi desideri ovviamente partecipare. Rimaniamo sempre a Gandino, dove domenica alle 10.30 è in programma la celebrazione della tradizionale messa alla Croce di Corno. L'appuntamento, da sempre collocato dalla seconda domenica di settembre, viene quest'anno anticipato per la coincidenza con la successiva festa patronale di San Nicola a Barzizza. La croce è collocata sulla sommità del Pizzo Corno, a circa 1.300 metri di quota, ed è stata completamente restaurata nel 2019. Fu collocata nel 1925 e si avvia pertanto al secolo di vita, che verrà salutato in occasione dell'anno santo 2025. Passiamo ora alla pagina sportiva. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D di calcio 2023-2024, nove gironi dei quali A e B ha 20 squadre per un organico di 166 club. Il campionato d'Italia, l'unico nel panorama nazionale che abbraccia tutte le regioni, prenderà il via domenica 10 settembre. Ben sette le bergamasche impegnate nel gruppo B. Villavalle, Virtu Ciserano Bergamo, Brusaporto, Caravaggio, Ponte San Pietro, Real Calepina e Trizium. Nello stesso girone troveremo anche Arconatese, Caldiero Terme, Casatese, Castellanzese, Clivense, Club Milano, Crema, Desenzano, Folgo Lercaratese, Legnano, Palazzolo, Piacenza e Varesina. Veniamo ai programmi della serata su Antenna 2, alle 20 Promoserio 20, alle 20.05 Paddock, alle 21 le partite dei play-off di baseball, alle 22 True Italian Experience, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.05 Hard Track, alle 23.45 il Sasso nello Stagno e a mezzanotte e 30 la terza edizione del TG di Antenna 2. L'almanacco del giorno domani, venerdì 1 settembre, il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 20.05, la luna è calante, sorge alle 20.55 e tramonta alle 9.32. del giorno successivo, la Chiesa ricorda Sant'Egidio Abate. E con questo è tutto, dopo il TG andranno in onda la rubrica classica, ma non troppo, e le previsioni del tempo. A tutti voi, una buona serata. A tutti voi, una buona serata.